allora noi stiamo cercando di andare nella bellissima montagna che è là dietro aspettate aspettate guardate che bel tempo che c'è in montagna siamo partiti perfettamente in orario alle 10 e mezza come potete vedere tu ti sei portato il giubbottino? io il giubbottino tecnico l'ho lasciato a casa perché tecnicamente l'ho lasciato a casa ce l'abbiamo fatta ad arrivare a destinazione almeno la prima destinazione siamo pronti? c'è una bellissima giornata di nuvola evviva ciao 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 Ebbene sì, signori e signori Ok, la scorsa volta siamo saliti Abbiamo fatto il giro sbagliato con la macchina E ci abbiamo messo un idolo Questa volta siamo saliti Abbiamo ritardato di circa un'ora e mezza Sulla tabella di marcia E adesso piove Ora stiamo scendendo Stiamo posando tutte le attrezzature E vabbè Sulla tabella di marcia Sulla tabella di marcia Sulla tabella di marcia Sulla tabella di marcia